Ciao a tutti ragazzuoli e bentornati, bentornati, parliamo della partita di ieri e di cosa non mi è piaciuto e di cosa non ci è piaciuto. Diciamoci la verità ragazzi, la Juve più orribile di quest'anno, è forse degli ultimi nove anni, l'abbiamo vista ieri eh, ieri con l'Udinese, madonna che schifo. Boh, prima di iniziare vi invito ovviamente a mettere like al video, iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e scaricate l'App OneFootball, trovate il link in descrizione, migliore app per rimanere aggiornati, anzi aggiornatissimi sul calcio. Mi ha fatto piacere intanto che vi sia piaciuta Three Talking Points che migliorerà ovviamente nella qualità audio e in tutte le cose. Ragazzi, sono dell'idea che per migliorare bisogna anche iniziare, poi le cose si migliorano mano a mano, non è che si parte già con una qualità elevatissima, anche se in tanti di voi mi dicono Ah, questo sì che è un video ben editato eccetera, sì ma c'è da migliorare, c'è tanto tanto da migliorare, ne sono ben conscio. Quindi vi ringrazio per i feedback costanti che state dando sul mio canale in termini di risposte, opinioni, veramente mi fa strapiacere, mi fa piacere anche il fatto che tanti abbiano chiesto Colpo, ma fa le stelle live reaction per questo rush finale e le porterò, le porterò, promesso. Ieri l'ho fatta, è stata al cardiopalma e ho rischiato veramente le coronarie perché ragazzi ho esultato come un matto al gol di Ronaldo insultando la Juventus in quel momento per la prestazione fornita ma ho esultato ed è giusto che sia così. Ho esultato perché, signori, è stata una vittoria inaspettata per quanto non meritata, eh. Per quanto non meritata è stata inaspettata, molto inaspettata, è stato un fulmine a ciel sereno il gol di Ronaldo. E però dobbiamo parlare di questo ragazzi perché io ce l'ho a morte compirlo perché ragazzi per me è una roba che è incomprensibile. Allora, quando abbiamo smesso di giocare ogni tre partite perché eliminati dalla Champions, perché la Coppa Italia, gli impegni erano finiti, dalle semifinali in poi c'è un lungo periodo prima della finale, eccetera. Ora che siamo concentrati solamente sul campionato, chi di noi non ha pensato a... Ora, Pirlo ha una settimana di tempo per poter preparare la gara, migliorare tutte le situazioni di gioco, migliorare i movimenti senza palla che sono pressoché assenti. Sono assenti ragazzi, cioè io ieri ho fatto un tweet e ve l'ho posto qua, se non mi seguite su Twitter vi invito a farlo. Quanto è frustrante questa Juventus, sempre gli stessi errori. Primo, l'approccio orribile. Da questo punto di vista non abbiamo cambiato una virgola. Poi ci sono state partite che abbiamo interpretato bene perché l'avversario ti porta ad alzare la soglia dell'attenzione, la soglia della voglia e la soglia dell'agonismo. Però l'approccio è sempre stato un po' revedibile, orribile, orribile. Cioè ieri ragazzi, badate bene che non era una partita normale perché c'era il Napoli e l'Atalanta che avevano fallito l'impegno di campionato con un pareggio. L'Inter aveva vinto lo scudetto. La risposta della Juve sul campo doveva essere fortissima perché la qualificazione in Champions è vitale per questa società. Quindi l'Udinese ieri, per come la penso io, a livello mentale bisognava spazzare di via e entrare con tutta un'altra gamba e tutta un'altro piglio. E questo ovviamente non è avvenuto ed è per questo che mi incazzo. Perché l'atteggiamento fa buona parte delle partite. Senza l'atteggiamento giusto si perde con chiunque, anche col pizzichettone. E così, l'atteggiamento, il mordente, la voglia di vincere, la voglia di morsicare le caviglie degli avversari, è una roba importante, soprattutto nei rush finale, dove c'è da battagliare quando le forze mentali e fisiche iniziano a mancare perché stiamo arrivando agli sgoccioli della stagione. Quindi approccio ovviamente, orribile come al solito, i movimenti senza palla. Signori, vi ho dato un dato interessante nella rubrica di Three Talking Points, ovvero il fatto che anche ieri la Juventus ha crossato 37 volte. Tutta è da sinistra, Quadrado solamente 4, perché è stato ben schermato dall'Udinese, lo sapevano Cani e Porci ormai che giochiamo in quella maniera. Che Quadrado è l'uomo in più, quello più pericoloso e che merita delle attenzioni particolari, perché è un trequartista giunto che crea situazioni pericolose dalle quali scaturiscono poi dei gol. E vedere questa tensione dell'Udinese, che ci costringe poi a crossare male da sinistra, perché su 37 cross solo 4, 4 sono andati a buon fine, tra cui quello di Rabiot nel finale. Vi fa ben pensare sul fatto che a livello centrale la produzione offensiva è pessima, perché? Perché non c'è movimento senza palla, non ci sono linee di passaggio, non si fa nulla di nulla. Da questo punto di vista Pirlo ha costruito 0 nel gioco della Juve, 0. Ha affidato la produzione offensiva all'esclusività e la bravura di Quadrado, Chiesa, Ronaldo, Morata, Barra di Bala. Cioè questo è il piano gara offensivo, un po' troppo striminzito per i miei gusti, perché anche se i giocatori hanno delle qualità alte, i centrocampisti devono sostenere la manovra offensiva con l'inserimento, col passaggio, col dettaglio alla linea di passaggio, con mettersi a disposizione dei compagni di squadra là davanti per creare anche delle situazioni pericolose dove il centrocampista può servire un attaccante. Non giochiamo nulla in verticale per via centrali, perché ci imbottigliano tutte le squadre e ci obbligano a giocare solamente su Quadrado e Chiesa. Non è stata mai fatta un'alternativa, non è stata mai creata un'alternativa lì alla Continassa. Cioè, no, sapete che c'è, oltre ai cross di Quadrado, proviamo qualche altra cosa per via centrali, non è stato provato nulla di tutto ciò. C'è una pigrizia da quel punto di vista che è disarmante. Un'altra cosa, la circolazione lenta è figlia ovviamente di questa cosa che vi ho detto. La circolazione lenta del pallone è figlia dei pochi movimenti senza palla, fatti là in mezzo. Cioè, l'unico che si muove è McKennie, ma ieri tecnicamente è sbagliato l'impossibile. Ho visto un'azione ieri di Bentancur, che era lì di fronte all'area di rigore, fa questo attacchetto irritante con l'esterno, una specie di tacco barra esterno, e dà la palla direttamente all'Udinese e loro ripartono. E noi rinculando, pitico, 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 a rinculare. Oh! Ma siete sciroccati o rincitrulliti, ecco, non uso quella parola là. La fase difensiva è revedibile. Un altro aspetto che ho toccato nel mio tweet. Perché? Perché è revedibile? Perché i centrocambisti sono dei gran poltroni, ogni volta che riparte il contropiede avversario noi rientriamo nella nostra metà campo con il carrello della legna attaccato. Alla velocità di due chilometri all'ora. Bra di poni che non siete altri. Ma se non riuscite a fare del pressing offensivo, o se vi buttate là davanti senza criterio, cazzo, una contromisura, mettetevi là a schermo anche della difesa, perché non siete in grado di fare questa avanti-indietro, 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 avanti-indietro. Perché la vostra testa magari non ve lo consente, perché io non credo che sia una questione fisica. Sulla fase offensiva orribile, io ve l'ho detto, cross-goal. Siamo una squadra da crossing game. Punto. È triste. È constatabile questa roba qua. Siamo una squadra da crossing game. Gli unici giocatori in cui ho trovato un po' di valore quest'anno, Federico Chiesa, Danilo, Quadrado, appunto, e poca roba in più. Poca roba in più. Questo è il valore che Pirlo ha dato alla squadra. Tutto questo. A mio parere, un po' troppo poco. Perché oltre ai risultati, io guardo anche quello che si è seminato per il futuro di questa squadra dal punto di vista tecnico, tattico. Si è seminato poco. Stiamo raccogliendo poco nulla. Quindi, sapete già come la penso, e vi motivo il mio Pirlo out prima possibile. Io, ragazzi, se ieri la Juventus perdeva Pirlo per me era già da cacciare la prima. Però ieri ho sclerato tanto. C'è, veramente, una sconfitta con quell'udinese che non ha più un cacchio da chiedere al campionato contro una squadra che invece si sta giocando il culo e si sta parando il culo con la qualificazione in Champions League. Io vi giuro, avrei fatto la battaglia da oggi fino a sabato per il Pirlo out immediato. Non la faccio, ma bisogna prendere atto comunque, ragazzi, dei problemi che ci sono. Sono tanti, sono tanti, tanti, tanti. E scommettiamo che adesso magari col Milan l'approcciamo anche discretamente bene e ci illudiamo. Perché questa squadra è così. Ti illude, poi la settimana successiva ti presenta il conto. Una costante di quest'anno. E questa è la cosa che mi fa più male di questa Juve. È esattamente questa roba qua. Signori, questo è tutto. Noi ci vediamo più tardi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale perché dopo facciamo l'analisi del lunedì con Romeo Neagresti. Quindi mi raccomando. E sempre fino alla fine. Forza Juve, non si molano accidenti.